Uno dei film più acclamati durante la presentazione mondiale al Festival del Cinema di Venezia e vede il debutto di Lady Gaga nel ruolo della protagonista femminile al fianco di Bradley Cooper che ne cura anche la regia. Lady Gaga ha curato anche le musiche del film che si sviluppano come un vero e proprio viaggio interiore ed emotivo fortissimo. Testi splendidi, basi veramente ben fatte, un prezioso capolavoro, insomma un album meraviglioso che mette in luce la voce strabiliante di Miss Germanotte.